Il Brasile è l'ospite d'onore della 65esima edizione del Salone del Libro di Francoforte. L'evento, inaugurato lunedì dalle autorità, sarà aperto al pubblico da mercoledì a domenica. Il paese sudamericano sarà rappresentato da una novantina di autori, ma lo scrittore Luis Ruffato sottolinea che nella sua nazione la cultura non è alla portata di tutti. Siamo ancora un paese in cui la casa, l'istruzione, la salute e lo svago non sono diritti di tutti, ma di una minoranza. Il padiglione brasiliano è un'area di 2.500 metri quadri, disegnata dalla poliedrica Daniela Thomas e dedicata al tema Omaggio alla carta. Per cinque giorni la fiera sarà invasa da 280.000 visitatori e oltre 7.000 editori da 100 paesi, con molto spazio per le start-up e per i volumi digitali o cartacei pubblicati in proprio.